torna a teatro con e questa la vita che sognavo da bambino luca argentero è felice e inebriato dal suo ottimismo in effetti ho la sensazione che la mia vita continui a migliorare questo spettacolo mi ha portato fortuna dice al corriere della sera spiega anche perché cerca di lamentarsi il meno possibile so cosa significa farsi il ci e guadagnare pochi euro dice sposato con una donna che ama appassionatamente cristina marino 32 anni padre di nina speranza tre anni e noè roberto che il 16 febbraio compirà un anno l'attore 45 n sente di vivere davvero l'esistenza che sognava da sempre anche il suo lavoro lo soddisfa pienamente sono consapevole della mia fortuna e cerco di essere sempre molto grato e di lamentarmi il meno possibile anche se non è mai rose e fiori per nessuno sottolinea quando gli si chiede se questa sua consapevolezza sull'essere fortunato lo faccia sentire obbligato a doverlo rimarcare di fronte a colleghi a cui le cose non vanno così bene argentero replica degli altri non mi interessa non mi sento obbligato nei confronti di nessuno e aggiunge semplicemente ho un grande rispetto nei confronti del lavoro e so cosa significa farsi il ci e guadagnare pochi euro perché è successo anche a me non posso farmi carico di ciò che non è successo agli altri in futuro vuole sentirsi più libero occupare i suoi spazi con la famiglia ancora maggiormente io ho scritto un libro che si intitola disdici tutti i miei impegni insomma è un augurio che mi faccio penso che ogni età abbia i suoi giusti spazi e che sia auspicabile trattenere qualcosa per sé luca è contento di recitare non vuole passare dietro la macchina da presa no nessuna regia ho già troppe responsabilità sul lavoro ho già fatto tutto quello che potevo fare e non ho più voglia di essere messo sotto esame c'è chi lo fa benissimo il regista come matteo garrone argentero ha un desiderio a riguardo il mio sogno professionale è proprio quello di lavorare con lui grazie grazie